amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino la serie due maschile pronta ad iniziare il momento della verità prosegue il nostro viaggio tra le formazioni impegnate nei playoff per la promozione andiamo oggi in casa dell'Olympic Roma e per farlo torna a trovarci il portiere della formazione capitolina do il bentrovato ad Adriano Giannotti ciao Adriano ciao Andrea grazie per l'invito Adriano iniziamo però a chiacchierare partendo da sabato scorso ultima di regular season l'Olympic espugna la scandone batte 9 a 7 lì schiamare in club e taglia così il traguardo quarto posto di cui parleremo tra un po' ti chiedo quali sensazioni vi ha lasciato la vittoria ottenuta con i partenopei beh ci ha lasciato comunque una bellissima sensazione perché dopo tutto un anno di fatiche raggiungiamo quello che era il nostro obiettivo iniziale ovvero raggiungere un posto playoff che era anche più diciamo il nostro obiettivo primario che era una salvezza tranquilla e però comunque man mano sapevamo che i playoff erano il quarto la quarta piazza era il nostro obiettivo prefissato e ci lascia molte ci lascia molte indicazioni comunque di sabato cioè abbiamo proprio giocato in modo energico fin dall'inizio per raggiungere quello che era il nostro obiettivo e infatti abbiamo siamo subito partiti molto forte e poi abbiamo cercato di gestire un po' più verso la seconda parte della partita quindi sono sono felice perché la squadra ha iniziato comunque a dare segnali in difesa e quindi niente sono molto felice di quello che abbiamo dimostrato e adesso ci andiamo a giocare questo playoff che è che è diciamo un premio e comunque una possibilità di di poter salire in serie a uno e tu nomi di playoff allora non posso esimermi dal chiederti che valore assume nel percorso di un gruppo che è composto quasi interamente da giovani la prodo ai playoff beh sicuramente per tanti è la prima volta mi compreso quindi sicuramente sarà una bella esperienza da da viversi prima di ogni altra cosa e sicuramente sarà un passo di crescita per per tutti perché comunque vivere questo tipo di partite ti porta a migliorare avere la pressione addosso di un certo cioè di un certo livello di partite contro un certo livello di avversari sono c'è un bel mattoncino di che vale per la crescita diciamo e poi soprattutto è comunque giocarsi una chance per salire nella massima serie secondo me è una è una cosa molto molto stimolante che al di là che comunque i pronostici non ci danno favoriti siamo siamo lì e comunque sono sono due tre partite si darà il massimo quindi secondo me vale molto questa queste queste partite perché ci faranno crescere ma secondo me scenderemo in acqua per per vincere non per non per altro diciamo prima di addentrarci però nella vostra post season ti chiedo se riannodiamo i fili del vostro torneo che bilancio tracciamo del cammino svolto nell'area colarsis comunque un bilancio nettamente positivo che noi stiamo stiamo tenendo il quarto poccio abbiamo tenuto il quarto posto fin da da dicembre non ci siamo mai fatti surpassare seppur con qualche recupero di quelle dietro ma comunque il quarto posto è sempre stato nelle nostre mani quindi posso dire un percorso nettamente positivo ovviamente con qualche sbaglione ma penso che per una squadra composta da tutti i ragazzi della squadra quindi penso sia una un cammino nettamente positivo poi ovviamente qualche qualche partita di troppo forse l'abbiamo l'abbiamo persa contro squadre meno quotate di noi ma complessivamente sono molto soddisfatto del nostro percorso perché non era non era facile arrivare i quarti molte squadre dietro comunque si erano attrezzate per provare a fare questo assalto al play off ma siamo stati più bravi noi con con cattiveria nelle ultime nelle ultime partite abbiamo dimostrato di militarlo quindi pienamente soddisfatto di questo percorso cosa vi ha detto mister fiorillo quando avete ripreso gli allenamenti beh sicuramente ci ha fatto a tutti i complimenti e era molto felice però allo stesso tempo ci ha caricato perché non è finita qui la stagione raggiungere un obiettivo sì però comunque adesso iniziano cioè iniziano le partite che contano quindi ci ha subito ricaricato e subito ha iniziato a preparare la partita di questo sabato che quindi ci vede contro il camogli quindi mario diciamo ha trattato ci ha trattato diciamo dal punto di vista se soffermato sulla vittoria però comunque subito iniziato a marcare quelli che sono gli aspetti che andremo a diciamo a interpretare sabato quindi è stato è stato bravo secondo me a farci staccare la domenica a farci farci esultare però poi ecco ci ha subito riportato al punto e lo hai detto tu sabato inizia questo percorso nei play off in trasferta gara 1 di semifinale in casa della rarinante scamogli che partita possiamo prevedere mi aspetto una partita molto fisica comunque dove partiranno molto forte davanti al loro pubblico penso che penso che comunque loro esatto proveranno al subito a farci capire la loro la loro forza ma andiamo lì dove ci aspettiamo questa partita e proveremo a giocarci le nostre carte che non non sono poche quindi penso che la partita ecco dal punto di vista poi da come me lo aspetto non aspetto molto fisica però penso che abbiamo le carte in regola per dire la nostra chiudiamo con un'ultima battuta non voglio sminuire il vostro percorso però credo sia abbastanza oggettivo dire che i liguri partono con i favori del pronostico e allora per voi invece scendere in vasca senza pressioni psicologiche che vantaggio può essere beh sicuramente il vantaggio può essere che si scende in acqua come hai detto te senza pressioni del risultato con meno pressioni del risultato perché comunque la pressione di giocare una partita così c'è sempre però ecco si va magari con un po più di leggerezza e questo può essere utile più per diciamo più per un punto di vista mentale che per un punto di vista a livello proprio della partita perché magari fare un gol potrebbe potrebbe mandare in crisi loro che che hanno comunque tutto in tutto da dimostrare ecco mentre noi andiamo lì per fare una partita solida però sappiamo che comunque loro sono più forti quindi rispettiamo l'avversario ma ci giochiamo le nostre carte e secondo me se qualche situazione riesce a dirci anche magari un pizzico di fortuna può essere che ecco come hai detto tu la leggerezza del cioè diciamo la leggerezza esatto del del pronostico che ci vede sfavoriti ci può portare invece a fare una delle partite più belle secondo me perché poi è in questo tipo di partite in cui ti viene da dare tutto quindi secondo me anche il fatto che siamo favoriti cioè siamo sfavoriti può essere una può essere una cosa che ci potrà dare un vantaggio va bene chiudiamo così questa chiacchierata ringrazio adriano giannotti per essere intervenuto do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao adriano grazie mille ciao andrei grazie a te